Gli effetti della meditazione sul nostro organismo e sulla nostra mente sono stati studiati a lungo negli ultimi 40 anni e i risultati di tutte le ricerche convergono nel dimostrare i benefici positivi di questa pratica. Scienziati provenienti da differenti campi utilizzando strumenti come la risonanza magnetica che fotografa l'attività del cervello stanno accumulando evidenze sulle implicazioni a lungo termine della meditazione sulla nostra salute fisica. Vari studi hanno accertato che la meditazione aiuta a ridurre i problemi legati al cuore e alla pressione arteriosa, riduce il dolore e migliora il sistema immunitario del corpo rendendolo più resistente ai malanni. La meditazione inoltre aiuta la guarigione della psoriasi e migliora la risposta immunitaria ai malati di cancro. Se consideriamo la pratica della mente trasformativa che è la pratica che Asteris insegna nei suoi corsi ci sono alcuni benefici aggiuntivi. Primo rilassarsi e rilasciare stress. Ricerche fatte sui meditatori hanno dimostrato che 15 minuti di meditazione equivalgono al rilascio di stress che avverrebbe durante 7 ore di sonno. Naturalmente non voglio suggerire di sostituire il sonno notturno con la meditazione, semplicemente in un'epoca in cui il sonno non ci consente più di rilassarci completamente e di assolvere appieno la sua funzione di recupero mentale, emozionale e fisico, utilizzare la meditazione è una strategia eccellente per migliorare la gestione dello stress. Un secondo beneficio aggiuntivo è l'allenamento all'azione riflessiva, cioè l'abilità di essere sul balcone nella danza contemporaneamente. Essere quindi più capaci di cortocircuitare l'attivazione dell'amigdala e delle reazioni automatiche di lotta, fuga e di immobilizzazione. La meditazione è uno strumento che ci consente una padronanza personale sui nostri stati emotivi. C'è anche un terzo importante beneficio legato alla pratica della mente trasformativa. Con il tempo, mano a mano che con la costante pratica della meditazione rilasciamo lo stress più recente e ci alleniamo a scendere a livelli sempre più bassi di onde cerebrali, riusciamo a raggiungere dei blocchi di stress molto antichi che sono intrappolati a livelli profondi nel nostro organismo. Utilizzare la meditazione regolarmente consente di rilasciare i blocchi energetici antichi che sono associati con i primi schemi di reazioni automatiche della nostra infanzia. Anche se non abbiamo memoria cosciente dei piccoli e grandi traumi che ci sono accaduti ad un'età tanto giovane e che ancora oggi determinano reazioni non funzionali al raggiungimento del nostro pieno potenziale, possiamo attraverso la costante pratica della meditazione alleggerire il loro peso sul nostro sistema. Per provare la pratica della mente trasformativa o TMP Meditation puoi scaricare gratuitamente l'app che trovi nell'Apple Store o in Google Play. Grazie per la visione!